Buongiorno, benvenuti a tutti a questo incontro sulla giustizia riparativa. Un pubblico numeroso, anche che il tema possa parecer per specializzati in giustizia e direzione, un pubblico molto numeroso, che parla della esperienza della giustizia e della giustizia, sia una realtà, che fa parte del tecido della nostra vita quotidiana e delle aulas dei tribunali, che fa parte normalmente del imaginario del giurista. Gostariamo di giustizia? Gostariamo che sia feita giustizia? Foi feita giustizia? Prometemos giustizia? Quanti volte, nelle croniche di media, in questo tipo, in fronte di episodi come acidenti, banali, oi altri eventi che repercuti o che facciamo con che sentiamo in giustizia? Expressi che si ripetano, ma che significa fare giustizia o obter giustizia per una persona che soffriva una grave perdita humana, materiale o affettiva? La giustizia administrativa nei tribunali, come come noi conosciamo oggi, nelle democracias liberali contemporanei, è frutto di un grande cammino di civilizzazione che ci permettevano principi importanti, che torneremo dopo, dei quali non vogliamo essere privati di nulla forma. Non necessariamente era così anteriormente, perché nelle civilizazioni antiche, dove la nostra civilizzazione è fondata, testemuniamo miti e narrazione di una passaggio epocal che marca una differenza, un limite di una idea primitiva di giustizia, che fu tornata per le punzioni humani, per una forma racionalizzata di giugare, attraverso di un sujeito terciero e imparcial, che è chiamato a dar sentenze sulle controverso e garantie. E, per esempio, una delle immagini che marano la mudanza di epoca tra una civilizzazione antica e moderna. Per esempio, la tercera tragédia di Escolo fala da fila dei antichi erini che soffrano una vinganza grazie a intervenzione della diosa Atena, che, con la installazione di un tribunale in Atena, interviene per romper questa cadeia di sangue e perseguição che afflige la famiglia di Agamemnon. Un tribunale che acaba absolvendo, con voto decisivo di Atena, Orestes, che era considerato culpato per un matricidio. Quindi, la prima concezione della justicia era baseata nella vinganza. La pertence a una epoca superata desde questo limite che era la cultura classica. Estamos molto além disso oggi. i nostri nostri constituzioni contemporanei, a partir della italiana molto ricca di principi e con molti documenti interni, prevede una serie di principi che correggere la administrazione e da garantia, principalmente in ambito penal. è garantito l'accesso al giuiz per la resoluzione delle controverte con supporto economico, garantendo anche la independenza e la imparcialità del giuiz, e questo caso la prefettiva della imparcatare l'accateur dei rispati di fondazione delle rispote di garbanti di consigliere Sospitari D'Acasw. la posizione della raffercia dell' dietro reserve, a presunzione dell'qualità di lega, come fu affermato nel titolo del mitten, ci hanno un tesoro riquissimo in materia di administrazione della justicia. E, anche in questo ambito, anche nel campo della justicia, anche quando il agito umano fosse impeccabile, la justicia immediata, racionali, e, anche in questo ambito, qualcosa permanece incompleto. Ano passato, in questa stessa sala, sentiamo esperienze potente di Maria Gràcia, che testimoniava una exagerata... un conflitto social e humano che nasce nella storia dell'Italia. A straordinaria vivenza e a straordinaria amizade che abbiamo visto nel palco, attraverso di un abrazzo, rinassi, quindi, di una intuizione di Adolfo Scheretti, che ci fu presentato attraverso i libri del incontro. tutto nasce per usare, quindi, queste parole, questi protagonisti, da constatazione che non è sufficiente satisfazer la necessità di justicia, il fatto che i responsabili possano pagare le proposte, in prisione, nemmeno per le vittime o nem per i parenti, è possibile trovare conforto e satisfazione attraverso la expiazione di una pena, o che fu dito per Eze Moro, era necessario romper la cadeia del mal che noi abituiamo di chiamare di justicia. E a partir dì, questo sentimento di insatisfazione, di falta di completezza, che nasce, quindi, le forme di nove attenzione e complementare, non che si possono di substitutare di che ci siamo abituati a vedere come giusticia tradizionale. Perché questa esigenza ha un senso di novità? Perché? Per esempio, per esempio, è più a fondo e con relazione al corso del anno passato. Il punto concettuale più problematico della giustizia tradizionale, come fu observato per Paul Ricchier, e vi citarlo, è che anche le operazioni più civilizate della giustizia, soprattutto nella esfera penal, mantengono ancora il sinalo visibile della violenza originale, che è la vinganza, fin da citazione. Retomando, quindi, la nostra immagine del mito che citei anteriormente, possiamo vedere che, in quella tragédia, nel final, le Almenides non conseguono superare. Dopo di un lungo dialogo di persuasione, Atenas reserva a loro un locale, senza exilare, senza expulsare. Existe una trasformazione nelle antiche divindade, Atenas nasce da la cabeça di Zeus, quindi, la riorienta la sua forza per una forza che, energiche negativi, che potrebbero essere a loro un'immagine, che potrebbero essere positivi per attraverso la inclusione. E questo ci fa ricordare che, anche nelle moderni civilizazioni contemporaneamente, la giustizia è, anche così, legata a una espressione di forte. è una forza necessaria sejamo chiaro per fins più alti per motivi constitucionale per il funzionamento della società garantire la sicurezza e la ordine è una responsabilità imprescindibile della società e prevenire anche e anche sancionar la responsabilità di chi è culpato ma, anche così questa lega come noi la conosciamo toma qualcosa di imprestato di quello che sia la violenza che tenta combattere è un paradoxo e a partir di questo paradoxo si vuole combattere la violenza ma non si consegue evitare la forza che nasce di forma imperiosa exigendo una nuova violenza nel terreno che ci è permesso che ci è permesso di experimentare le nuove le nuove le nuove che possono realizzare di forma meglio la nostra exigenza di giustizia che è inesauribile messe questa sequenza di visi e di descoberta di nuove le nuove le nuove che completano la giustizia tradizionale attraverso la contribuzione di nuovi protagonisti qui abbiamo principalmente Carmen Velasco e pevo un applauso una giustizia espanola un notario che fa questa profissione desde 2002 in Bilbao e che che ha detto che dopo alcuni eventi histórici che espanne soffrono in una crisi economica e che è specializzata in risoluzione di conflitti attraverso della mediazione e altri metodi per la soluzione di controverso in questioni commerciali familiare e anche penale non somente la pratica la mediazione ma è professora di molti nuovi mediatori e dedica molta energia per formare persone che lavorano nel settore e questo è importante notare che lavorano in estreita colabora con il Tribunale di Madri e dei paesi basi e anche con noi la riflessione continuare con il padre Francesco che occupa importanti in questo meeting è jesuita parte della città della città e ha una formazione riquissima come diverse delle contribuzioni destacano è formato in Direzione e conseguo anche licenza in Teologia e dottorato tra Pontifiche Università di Roma è specializzato in Direi Humani e completò sua formazione in Santiago del Chile è giornalista publicista profissionista e scrive muitos livros in setori di altri temi come diretti constitucional dei quali me occupo anche uno dei ultimi dei sui libro è intitulato A Justicia Virata di Cabeza per baixo la terza intervenzione è di Valdeci di Antonio Ferreira molto conhecido nel meeting che mostrano l'anno 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 ha una relazione di colaborazione con le instituzioni brasiliane, specialmente con i Stato di Minas Gerais, non so come si dice, ma è Gerais, e anche cuida della formazione di persone che possano dare continuità a questa esperienza straordinaria, di cui avevamo conhecimento con la exposizione del anno passato. Io già tomei spesso di più, passo la parola principalmente a Carmen, che ci farà parlare della. Non riuscire fare il mio intervento in italiano. Quiero dar las grazie in primo lugar per avermi invitato a partecipare in questo panel. È una felicità per me essere qui oggi. e da qualche anno per comprare una casa per comprare una casa. in questo caso, in questo caso, che sono molti a partecipare a partecipare a partecipare a partecipare e a partecipare a partecipare a partecipare a partecipare per lavorare per faremo per faremo per faremo con i membri anche con i creditori per faremo informazioni per avere in questo caso che potrebbero essere utili per avaliare la forma di importanza a essere paga quanti anni passano questo questo che tipo di despesa queste persone hanno quanti persone potrebbero lavorare e chi era titolare per poter facilitar la conversazione tra queste persone e per una buona fede perché io dovrei obterciare i dati per apoiare questa buona fede in relazione ai i banci in cui i banci potrebbero negociare l'empréstimo per esempio utilizzando un mediatore externo con queste linee io pude lavorare con casali sempre con colleghi erano situazioni molto difficili quindi se abriu un mondo molto grande era completamente differente in relazione a quello che imaginava molto complicato e percebi che necessitaria da parte mia un empenho molto grande in tutti questi casi encontrei persone che hanno che hanno attrazione che le loro hanno hanno situazioni e quelle Pessoas che compravano, per esempio, una casa e non avevano previsto, di forma adequata, quanto devono pagare, potrebbero perdere il lavoro e, a volte, casali che avessero separati. E, a volte, pais che avevano dato un aval pros fokiris comprare una casa e si trovavano em difficulade. O imigrantes, che что produrali in edificman, obras, perlare Polulu o servidor delle espacere poi insensate making. E non potrebbero pagare questo empréstimo. A situazione era insustente per loro eAME non potrebbero pagare queste parti. del empréstimo. Essas pessoas me procuravam con una idea molto ruim della situazione in cui si trovavano. E anche con una idea ruim dei banci. Il banco diceva che sono persone irresponsabili. Comeziamo a lavorare tutti insieme e abbiamo visto che le cose tecniche non erano sufficienti per risolvere la situazione. Era un desafio. Per me era un desafio. Non potevo solo fare perguntas del tipo tecnico, ma erano situazioni che me atingivano direttamente e non potevo solo me dirigirei a persone con dati economici o questioni obiettivi. Quindi mi senti molto triste come profissional e sembrava diminuire le persone e la situazione. Se ancora lavorare solo con dati tecniche, non darei nessuna contribuzione. qualche tecnico potrebbe fare una analisi della situazione. Quindi era una situazione molto difficile per me. E questo mi ha dato un impulso differente come persona. E percebi che vivendo in contatto con queste persone che potrebbero riusciare a recuperare potrebbero riusciare la loro che erano persone che erano che erano riusciare 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 erano riusciare riusciare come come riusciare e riusciare 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 e riusciare forno di possibilità di trovare soluzioni, che conseguimos permanecerci nella propria casa senza despejo e pagando con parceli molto bassi. Siamo arrivati a riduzirei al minimo la falta di pagamento delle parceli e dei empréstimos. Questo è il primo caso in cui una prefeitura e consegui fare un accordo con un banco. Outro esempio che vorrei fare è che, con relazione al mio lavoro, nel caso di casali che stavano in fase di separazione, c'è una grande difficoltà dentro del proprio matrimonio, una collega mi chiamata, ho ricevuto un telefonema di un casale che ha notato che non conseguia ajudá-lo dal punto di vista della consultoria juridica, non conseguia risolvere la questione della dor. e quindi ho chiamato la ajuda di una mediadora. Antes di entrare in sala, ho percebi che, nella mia fronte, ho avuto persone che non potrebbero administrare somente come un aspecto tecnico. ho avuto... ho avuto la necessità di trovare il grau di envolvimento che era necessario per me e qual seria la mia contribuzione utile. Entri in questa sala senza saber nada, come ho avuto a me spiegare a questo casale, che tipo di lavoro faria con loro, che non ho avuto solo di dire lo che dovrebbero fare, ma che stessi con loro, perché volevo sapere lo che era stato che era importante per loro, come stavano vivendo questa situazione, e ho avuto con loro che stessero che stessero per loro. Quindi ho avuto la comunicazione tra loro. e, devagar, eles acabaram me contando, por exemplo, ele tinha una doenza degenerativa, sempre teve difficulade entre os dois, ma con la doenza se tornava tutto praticamente impossibile e molto difficile. Eles non tinham la forza per suportare l'un al l'altro, ma, parlando con loro, ho percebi che conseguia manter a mia misma molto calma e non è natural. E estive molto prossima di loro. Segui, quindi, le conversazioni e faccia perguntas. E loro mi contavano che non si parlavano mai, che era un peso molto grande di stare con loro, che non erano che non erano che non erano che non erano quindi, attraverso delle mie questioni, io pergattavo a loro come voleriam che fosse il dia a dia di loro e tentei fare con che emergisse una forma di sentirsi amati e che a vita non terminasse così. quindi, faccia a gritar e io non voglio gritar ma non so come evitare questo. E lei diceva quando già gritei e lo succedero mi sento male non sapere come recuperare la situazione di felicità e tutti i due parlavano di perdono e questo mi impressionò molto perché quando entri nella sala io solo percebi che non poteriam dialogare e poi con i encontrò devagar un incontro apposso l'altro e i percebbero che cada uno era una persona e começaron a formular questa exigenza di perdoarsi e che podiam perdoarsi quindi decidono non se separare e questo dopo di un po' tempo mi telefoni e mi collega e mi chiede per parlare conmigo una volta perché voleva recuperare le parole che si 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 chiede non aceitariam questa separazione e non sarebbero capace di essere sozine e dialogare e quando começarono a parlare conmigo io percebi io vi che arrastavano questa storia di falta di incontro non ricordava più di quello che aveva fatto con lei e stavano blocchiato quindi ci sorprendeo queste persone presentano i propri limiti e lo che contano lo che contano di si mesmas è una forma e io, chiaramente come mediadora inizialmente percebi che la situazione mudava e tutti noi trezi come stavano a lavorare le tensioni stavano a essere colocati nella mesa sono exposti e queste persone precisavano di qualcuno che stesse con loro per ajudare a parlare durante questi incontri che devoravano è un piacere un piacere essere con loro io non so che cosa realmente nel fondo di queste persone e devagar sem un consiglio mio vediamo con le instituzioni bancarie e questo può essere una complementazione alla giustizia tradizionale, come ha detto da Marta, che ci permetterà arrivare al profondo di quello che sta succedendo. Possiamo accompagnare le persone, ajudà-la a construire una nuova forma di relazione che possa involverare tutti gli attori interessati. Grazie. Grazie, Carmen, per aver voluto condividere. Grazie. Grazie, Carmen, per aver compartilato con noi questa sua esperienza e questo profissionalismo, che non abbandonò la profissà di notario, ma una nuova dimensione possibile. Gostaria di ressaltare, quindi, alcuni aspecti, tra i molti che mi atingirano, il primo è chi di noi non si riconosce nelle situazioni che ci ha dato ora, difficoltà economica, salari che non ci sono, la perdita di lavoro, le preoccupazioni negli ultimi anni che afflige le famiglie, che non sappiamo cosa succede il giorno dopo, anche nel caso della propria residenza. Tensioni familiari. E conflitti dei quali Carmen ci ha parlato, situazioni molto desgastanti, ma questa impacienza, questa perdita di capacità di accolienza. In quali famiglia, nei giorni di oggi, non sono vivi le tensioni di questo tipo? Quindi, il tipo di giustizia reparadora di cui ci ha parlato, non è solo per grandi conflitti storici, ma anche per un quotidiano, un giorno a giorno, che fa parte del nostro nostro quotidiano. O risultato, onde funziona, con grande realismo, lei ha parlato di molti casi in cui non è possibile recompori i conflitti, aonde nasce qualcosa, aonde parte qualcosa, è il risultato nel quale tutti sanno vencedori. Non c'è una parte vencedora, è una perdedora, come diriam gli americani, è un win-win, dove tutti sanno venendo qualcosa. E qual è il fattore che desencadeia e che lei ha risultato? Non è il consiglio corretto, non sono, non sono, non sono lì per dare consigli, ma un olare, un olare di Carmen, che soube vedere il valore della persona. Imaginem con quanta vergonta, quanta vergonta, una persona che non è più capace di pagare una prestazione da casa, che a chi ha avuto a chi che risolvere questo tipo di controverso. Quanto questo può costare, in termos umani, dire a si messe, non posso, non ho lavoro, non sono capace, non posso manter una casa per i miei figli, quanta vergonta potrebbe existire, in una persona che dice, vevo il mio marido doente, ma non ho capace di non grittare con lui. Non è, portanto, un consiglio, ma è un olare che può perfurare questa immagine, questo sentimento di vergonta, questa misera humana che si apresenta, ver, quindi, il valore della persona che ora comincia a se movimentare, si descobre come nuove possibilità di essere percorrata. La tradizione juridica dei nostri paesi che si parla di dignità humana, in tutti i texti dopo la seconda guerra, è la raiz della dignità humana, il centro. Ma dove va queste raizze, questo sentimento di dignità humana, nella concezione cultural, antropologica e bíblica, nel qualsiasi fomos dotati attraverso di una tradizione milenar. Io vorrei, inizialmente, di dire grazie a tutti i organizzatori del incontro, e principalmente, un ringrazio molto grande a Marta, perché è vicepresidente della nostra Corte Constitucional, per la audacia di affrontare questo tema e di vedere lonti, lonti della cronica. Perché questo modello tocca la nostra vita, tocca a tutti noi. Generalmente, ci dividiamo tra giustiziaristi e permissivi, fino a che il tema della giustizia tocca la nostra propria pelle. Aí, noi mudiamo la perspectiva. Quindi, io vorrei venire anche qui con voi per poter commentare questo modello, perché è profetto, perché ho bisogno di una comunità come la di signori, per due raggiungi. Perché, per molti anni, io vivi dentro di prisi, non somente in Milano, principalmente, nel domingo, io ero nel settore di penal, ma anche in Colombo, in Chile, dove posso garantire che le condizioni dei prisioni dei prisioni sono molto più piccoli di quello che abbiamo qui, anche che vivano qui in condizioni molto difficili e duri. E il secondo motivo è perché ho trovato molte di riempire di riempire e mi hanno detto che questo è il unico modello possibile. Dopo di aver sofrato molto, abbiamo la possibilità che si possa expressare la loro storia pubblicamente e, anche, 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 il che che possa fare è tanto, non può legittimare la dor. Sto mettendo nel centro, prima, il maggior esquecido sono le condizioni e la sua dor, sono instrumentalizzati politicamente o non conseguono essere escutati, perché la nostra società considera le prisioni come un luogo di reclusione sociale. Dando alcuni numeri, compondo il quadro dove ci siamo movemos, in Italia abbiamo 195 instituzioni penitenciate. E, nel final di 2017, abbiamo 56 mil detenti. Nel anno passato, nel periodo, erano 54 mil. E la capacità massima delle prisioni è di 50 mil. Quindi, c'è un sobresalente di 10 mil. Dessere il total, di 56 mil, 19 mil sono imigranti. Ma qual è il punto per noi? che quasi 69% di chi è in reclusione nelle prisioni volta a cometer il mesmo crime. Perché, di 1.000 persone che entram e saem delle prisioni italiane di ogni giorno, non parecchiamo ma tutto il giorno, 690% voltano a refazer il che facevano prima. Quindi, io mi pergunto, questo è un modello che non funziona? E noi abbiamo la responsabilità di dire qualcosa. E ci sono un altro dato che mi atinge se somente a volta di 1% al crime, il Stato potrebbe economizzare milioni di euro. Questo sarebbe già sufficiente per convenire que resistano al nostro movimento, dicendo che questo modello non funziona. come medida alternativa, altre medidas alternativi stanno funzionando. Sono 23.000 le 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 Ma sappiamo che molti sono contrari al cambiamento dell'attuale sistema carcerario perché se ne servono e se ne alimentano. Qua fa parte del Recipe Siamo Aperto. Siamo in un laboratorio che fabbricano mobili. Almeno sei ore lavorano tutti i giorni. In questa cucina qua lavorano tre o quattro recuperando e fanno i cibi per 170 persone. Nel sistema carcerario comune riceviamo molte umiliazioni, capisci? Ci sono spesso rivolte, si viene picchiati. Qui è diverso, senza quell'uniforme rossa e poi le famiglie vengono a trovarci con i bambini. Come si può vedere non c'è muri. Lavorano qua tante recuperande. C'è anche un orto. Lì c'è un laboratorio che fabbricano piezze di automobili. Una persona che spesso era considerata inutile dalla società dopo il passaggio da noi può uscire da qui ed essere utile. Per questo è chiamata recuperando. Qui entra l'uomo. Il crimine resta fuori. A destra la porta già aperta per i recuperandi in regime di semilibertà. Ho una condanna a 21 anni in totale. 15 per un omicidio che ho commesso e il resto per una rapina. Ho tre figli, due gemelli e la più piccola si chiama Marcellina. Oggi la recidiva nelle nostre strutture è inferiore al 10% quando la media nazionale è intorno all'80% e quella mondiale al 70%. Inoltre un detenuto qui costa tre volte e mezzo in meno rispetto al sistema carcerario comune. Non c'è corruzione, non c'è violenza. Nelle nostre strutture non entra droga, non si usano cellulari a differenza delle prigioni comuni. Oggi il sistema carcerario è un'industria e così molte imprese, molte corporazioni vivono sulla miseria di questo sistema. Muitas empresas, molte corporazioni vivono a costa della miseria dei presi. So let me out, or let me in, and tell me how to go, but we can win, because we really wanna go now. Aquella parola. Padre Oqueta e a Carmen, che dividono questo momento con me. dire da mia profonda alegria e gratidão, in speciale a coordenazione del meeting e anche a Fundazione Avesse, che tanto hanno fatto per la consolidazione delle APAC già existenti e aiutato nella expansione delle APACs per il mondo. Io cheguei dal Brasile anteonten e devo confessare che ho lasciato un Paese in profonda agonia. O Brasile vive, neste momento, una crisi sem precedenti. una crisi economica, che attualmente mantiene 13 milioni di desempregati, dei quali 80% sono jovi di 18 a 24 anni. viviamo una crisi politica, viviamo una crisi di liderarmi e, soprattutto, viviamo una crisi di valore. E in mezzo a tutto questo, il Brasile vive una crisi prisionali, una crisi che già è secolare, che in questo momento mantiene 700 mili presi in condizioni subhumani, prisioni dove la reincidenza arriva a 85%, prisioni replette di violenza, dominata per le facciazioni criminose, prisioni che più le persone, perché sono delle università di crime. Ma io sto convenzio di che questa realtà del sistema prisionalo brasilello, in menor o in maggior grau, anche sta presente in diversi paesi, soprattutto nei paesi dell'America Latina, dell'Âfrica e dell'Âsia. E in mezzo a questa crisi nasce questa esperienza exitosa chiamata APAC, Associaio di Protezione e Assistenza ai Condenati. associazioni, entidades sem fins lucrativos che hanno per finalità recuperare il preso, protegere la società, socorre le vittime e promuovere la justicia restaurativa. E per ottenere questi obiettivi, noi ofereciamo una terapia penal propria denominata Método APAC, composta di 12 elementi fondamentali, entre i quali la participazione della comunità, il recuperando, ajudando, recuperando, il lavoro, la educazione, assistenza a la salute, assistenza juridica, la famiglia, la valorizzazione humana, os volontarii, enfim, quando questi 12 elementi fondamentali funzionano e sono applicati di modo harmonico, iranno produzire risultati positivi. una metodologia che sta assentata nel amor, la confianza e la disciplina. attraverso la applicazione della metodologia, attraverso la applicazione della metodologia, è possibile riduzire la reincidenza per índice inferiore a 15%. riduziremo il costo drasticamente. Non c'è violenza, non c'è rebelione, non c'è motins, non c'è drogas, non c'è faccione criminosa. che, non c'è perciò che, io potrei dire che che le faccione che le faccione sono una verona rivoluzione del sistema prisional del mondo enteiro. E sto certo e seguro che questo secolo sarà marco per la esperienza delle faccione. in modo molto semplice e timido, noi oggi administriamo 48 APACs no Brasil, totalizzando in torno di 3.500 recuperandosi e abbiamo più di 80 APACs in diverse stagioni di implantazione e siamo presenti applicando parcialmente la metodologia in 23 paesi del mondo. Certamente che poteriam me perguntar se a APAC nasce nel anno di 1972 idealizzata pelo querido advogato e giornalista Mario Ottoboni. perché passati 45 anni la esperienza ancora è così tímida. Io poteriam dire che questo è frutto di due motivi. Il primo è il riconoscimento della metodologia APAC, perché lamentavelmente soprattutto nel nostro paese, esperienze exitosa e positiva raramente recebbero il apoio e la divulgazione della media. E ma questa esperienza possa fracassare. raramente io è una E come tutta la obra di Dio, è stato a servizio della humanità. Io sto involvito nel progetto di recuperazione di presidiari ha 24 anni. Non ho fatto nulla cosa nella mia vita, se non chaffurdo la lama dei presidiari per rinforzare dali le vidi che si trovano in questi pantano che sono le nostre prigioni. Os senhores, as senhoras, difficilmente terão dimensão das grandes dificuldades, dos grandes obstáculos enfrentados no dia a dia, para non desanimar. Para acordar a cada manhã como discípulo, che entrò in questa area come discípulo, che continua come un discípulo e che quer morrer come un discípulo, come un eterno aprendiz dessa matéria. Me ricordo, dottora Marta, dos primeiros anni in cui ero humiliantemente rivistato pelos policiari. Me ricordo del cansaço das viagens, das noites mal dormidas, das muitas dúvidas. Me ricordo dos mais de 17 processos judiciais movidos pelo Ministério Público. Me ricordo dei processos, processos nei quali io fui accusato di tutto e che tutto fissero per che io anche sia un prigione. Ma per la grazia di Dio, non mi faltòi ai miei amici, non mi faltòi ai miei amici che pudessero me socorrer in stas ore di infortunio. Durante mesi seguidos, fui ameaçato di morte. Abri mão di tutto, da famiglia, dos bens materiais, dos concursos, per me dedicar completamente a questa obra. che io teno sicurezza, è un oasis in meio a un deserto di sofrimento. E invisto a mia vita nesta causa. E consagro a mia liberdade, per che gli che cumprem pena, possano essere livres. Perché sto convencido di che Dio mi chiamato per questa causa. E, ancora, tendo tantos motivos per fuggire, io aprendi con i recuperandosi d'Azapac, che do amor ninguem foge. E io non posso fuggire d'Azapac, perché Dio è l'Azapac. E io non posso fuggire d'Azapac, perché Dio è l'Azapac. Io non posso fuggire d'Azapac. Perciò, a propósito, tu chiedava qual è il segredo. O segredo sta nas cose semplici. Embora o método sia constituído di 12 elementi fondamentali, Io sto convenzio di che Dio si esconde nelle dobrze della storia e da stessa forma si esconde e si revela a lungo della applicazione di questi due elementi fondamentali. Uno dei quali è chiamare il preso per il nome, perché sappiamo che il riscate della persona umana viene dal riscate del nome, dal riscate della storia, dal riscate della dignità. Uno dei segreti è la famiglia, uno dei segreti è la valorizzazione umana, trattare l'acqua che arriva come sujeito di diretti e di diretti. Overecendo a ele um espaço humano, con jardini, con mesas no refeitório, per che di nuovo si senti gente, per che di nuovo possa essere tratato come un'imagine e semelhanza di un Deus che non sta morto come molti pensano, ma che sta vivo e attuante nella nostra storia. Quando a ele un'imagine, quando a ele passa per questo processo difficile e costoso di purificazione, quando a ele muda il comportamento, per esempio, per esempio, a ele muda la mentalità. Ma quando a ele arriva a questo terzo passo, noi abbiamo aiutato a fare la esperienza del profeta Ezequiel, che riuscate a quella di un'imagine di pedra e lo metà un'imagine di carne. E' la conversazione, è la conversazione, è la mudanza di vita. Nesta ora, a ele vuole reparare il danno. E io potrei, nesta maniera, e lamentavelmente il mio tempo già sta finito. Io potrei illustrare con in numerosi casi, abbiamo anche un libro scritto per il Dr. Mario Ottoboni, «Seja a soluzione, non a vítima», dove abbiamo dellezze e dellezze di casi in cui che gli uomini e dellezze e dellezze, per la grazia di Dio darem questo passo, rumo alla riconciliazione con le loro vittime. Ma io mi atero a un piccolo caso del Marcos Paolo, che aveva cometito un crime di homicidio. «Ele matò per roubar, na verdade, un crime di latrocini, un jove di 22 anni, condenato a 25 anni, deixò una signora viùva e deixò due donnezze orfani. E dentro da APAC, con molto esforzo, noi fomos ajudando questo giovane a dare questi passi, rumo alla riconciliazione». Ma quando il arrivò nel terzo passo, il entrò in una profonda angustia, perché non sabia come fare per reparare la dor che aveva provocato. «Ele deu due passi, che io voglio credere, sono inspirazione di Dio». «O primo, a cada mesi, lui recolhia il dinero da venda dei artesanati e mandava una cesta basica per quella famiglia». «Durante due anni, mensalmente, lui mandava una cesta basica per ajudar quella viùva e ajudar aquelle due donnezze orfani. E somente dopo di due anni, in cui lui ha questo gesto anonimo, quella viùva se deu conto di dove veniva questa ajuda. «Ela resolveu, quindi, visitar a APAC, resolveu se encontrare con la figura del ofensor. E io sono grato a Dio, perché io pude presenziare l'incontro, l'incontro del perdone, perché io sei che il perdone è la essenza del amor di Dio». «Mas, mesmo con questo, lui continuava angustiato, perché lui già aveva reparato, di certa forma, il danno cometito. Ma c'era una vittima, alguien che morreu, che derramò sangue. «Atè che un giorno, in una palestra, una signora pediu per conversare con i recuperandosi da APAC, e lei aveva un parente molto prossimo, un sobrino, che faccia hemodiàlisi tre volte per settimana. E lei contò il drama del suo sobrino e perguntò se nel medio dei recuperandosi non c'era qualcuno che ci offrecesse per doare un rim». Di più di 100 recuperandosi nella sala di palestra, solo 8 levantaron la mano e ci offreceram. «Foron conduziti per l'ospitalo, per la realizzazione dei exami, e uno dei loro era Marco Paolo. E, per incredibile che parezza, daquelles 8, somente i exami dei Marco Paolo sono compatibili. E durante molto tempo, nel suo testemunio, lui faceva questione di dire che aveva tirato una vita, ma che, per la grazia di Dio, lui aveva devolvito una vita di nuovo. E io sono grato a Dio per tutto questo. dopo questa esperienza, padre Oqueto, lui pediu per essere batizzato, dopo ha fatto la prima eucaristia, ha fatto la crisma, e io sono il padrone di batismo deste jove. Aplausos 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 non è magia nada acontece instantaneamente o con risultati seguros e certos come una pozione magica non è nemmeno lo che noi ascoltiamo un formato un meccanismo a essere ripetito che dà risultati seguros nemmeno somente una rechamata moral al perdono e misericordia ma quanti volte il nostro coraggio si sente così così incapaz di perdoare e di essere misericordioso e di esquecer la dor e superare i fatti che ci ferono lo che noi ascoltiamo oggi dimostra una strada che è possibile un cammino che può essere percorrato che permita experimentare anche nella dor e nelle offensi recebili come una convenienza humana che evite che chi è stato involvito permanece petrificato come culpato come vittima petrificato in un papel che non consegue mai superare è una strada che può essere percorrata e è totalmente a essere descoberta per chi ha che percorrere questo vero è una frase di Fon Balthas che dice come un nadatore precisa sempre nadare per non affondare o se affogare mesmo che sia cada vez meglio na arte di nadare così anche il amante precisa vivere ogni giorno di forma nova e original nel amor e pergoglare e questionare il amor e così e anche no final il conhecedor precisa cada dia fare novas questões sobre la essenza della verità senza essere per questo un cattico estereo e destruidor una busca continua una energia indomabile un cammino inesauribile in cada aspecto della esperienza humana e così nel mondo della justicia non si tratta somente portanto di escoltare queste novidi di vita queste flore che nasce nel deserto questi oasi del deserto per abbandonare la justicia tradizionale oggi a tarte escoltaremos também attraverso di Paolo Tozzone esperiencias também affascinanti di juristi italiani magistrados ma tratta se preservare la riqueza della necessità di justicia che va questionata continuamente noi amanti nadatori conosci che deseiamo andare profundamente in busca di questa necessità inesauribile di justicia che nunca poderà essere placata guiadas pelas experiências che sentimos che podemos também encontrar escrituras come o libro di Padre Oqueta che encontra se na tenda carmen escreve anche un libro cedo o tarde agradecemos con sentimento perché ogni anno nos permite ter un espaço che possiamo sire rinquecidos quem deseja sustentar o meeting è possibile fare anche una doazione per fare tutto è necessario anche apoio material esistono locais onde cada uno di noi può come sinal di agradecimento può dar a contribuzione agradecemos per lo che ha presentato a Grazie.